per lega di fare o di provare ho disinstallato ante ragazzi adesso proprio ve lo dico non ci sarà più nessun meme nessuna cosa ho disinstallato basso metteranno qualcosa di decente lo riscarichiamo simone tutto ciò sarebbe carinissimo poter una persona normale quando si sveglia cosa fa fa in bagno fa colazione io faccio colazione e poi per il bagno non lo so è una sfida ogni mattina io non sono qua senza poter andare nei servizi ma non è possibile che ti svegli di svegli presto non mi sono svegliato prestissimo stamattina alle 9 40 9 50 non ho trovato un pisciare metti due secondi a questo pare è andata proprio ci credo neanche se lo vedo marco eppure c'è sono anche i testimoni che possono confermare questa cosa spesso e volentieri io purtroppo la mia vita è così ragazzi però ma come come se come se non l'avessi fatto gli pisci nella maniglia voglio vedere se poi no non funziona così moro non ti assicuro sì tu sei in due voi siete in due io ho anche due bagni ma non è quello il discorso se mi se mi sveglio la prima cosa che devo fare è andare al cesso se c'è qualcuno dentro esce si leva dei coglioni ci vado io non funziona così posso assicurare di no grazie poglietti e chi ha una famiglia abbastanza numerosa può capire ho capito ma comunque educazione se mi se devo andare in bagno ti levi dalle palle piscio poi c'è rientra grazie ciac se c'è lo studio qualcuno nel tuo bagno è un deve un attimo a quanto pare proprio così le maniglie piene di pipì se ero io dentro quella casa alle maniglie poi sono quella del bagno è che mi metto le altre devo usarle ma lì non lo posso fisicamente usare ci piscio no certo comunque apro la console playstation e lo so zucca purtroppo dobbiamo rassegnarci a questa cosa i numeri elimina code li ricordo diversi e invece chi ha la stessa situazione sa ma basta come si fa qui o bs ah io sto aspettando di poter andare ma tu sorella non dovrebbe essere a scuola scusa no aspetta che devo andare il 26 quando li apro catetere e via con un bagno solo c'è la coda al mattino posso così partiamo e mi attaccherò al cacchio ma bus e ieri devo pisciare urgentemente ah ancora parti ma non è possibile ma basta basta o c'è morto qualcuno chiama la polizia ma no ma te lo stanno dicendo anche in chat non è un casino è impossibile ragazzi eh vabbè è impossibile intanto è così andiamo perché se vai ce la porta chiusa magari non c'è nessuno dentro Marco no non è vero non entro nei dettagli ma insomma la connessione è presa il network che è stata persa chissà il cazzo che è stata persa lo fai giocare grazie Chuck non l'ho ringraziato io prima era spenta la console è stata persa per forza la connessione ma si usa il lavandino in cucina una bottiglia poi la metti in frigo ma che schifo ma che fa malissimo che animali del cazzo una cosa che distrugge di più i reni tenere la pipì non è che sto esplodendo devo andare ma posso aspettare è una rotola di bagno la mattina non vado al bagno istantaneamente se stessi esplodendo ovviamente lo faccio qua è più una rotola di scatole perché non puoi andare tante volte devo aspettare talmente tanto che poi mi passa esatto quello che sta succedendo a me ormai nel mio corpo stai dicendo ma non è vero che devi andare no ho sbagliato allora questa ok ok e dai invita miglior grazie Wookie e dai non mi fare aspettare non mi fare aspettare no non fa invitare perchè e zar va meglio mmm il vaso da notte si che contiene tutte le feci e le schifezze della notte tutti i brodi vegetali dell'uomo ma ieri riuscivo a invitare adesso no non è che c'è un problemi server come si fa canale della morte era giusto canale della morte capitolo 3 difficoltà media media era grazie Wookie grazie Cianuro tre giocatori sono accorta che era un po' che non rinnovavo ma soprattutto che non riuscivo a vedere una vostra live grazie Berna grazie però ho partito insieme volevo far parte ah ospita posso fare anche posso fare quello che mi pare qua ah si amol 3 media 3 giocatori slot giocatore r2 lizard no io vedo entrambi crea partita creazione lobby faccio io faccio e adesso vi invito è messo per tre giocatori la difficoltà si però ho lasciato pubblico aspetta poi chiuderlo al momento poi chiuderlo eh come aspettate che forse forse finalmente lo posso posso andare per davvero no io son dentro comunque si ok passa in rassegna slot privato ok mmm poi come eravamo messi qua kit di potenziamento per il Garand non ci interessava direi che siamo apposti lembri di venezia era giusto il capitolo 3 si era lui capitolo 3 venezia termo ciò eh si eh per forza il copricaspo terrificante ma marco non ha messo pronto era una menzogna era detto sono dentro però non ha detto sono pronto è vero ma come Jimmy marzullo mi faccio le domande e me le rispondo da solo ho intenzione a che ci sono i miei che si stanno vaccinando e quindi che si stanno vaccinando perché adesso hanno iniziato a vaccinare anche fino a 60 eh si ma tra l'altro mi diceva sempre un po' mi diceva mia mamma che eh tipo tutti hanno ricevuto una un carico un altro carico di vaccini così e però ci sono molti eh inutilizzati tra virgolette quindi stanno dando gli stanno dando anche a quelli appunto si no ma adesso si sta adesso si sta accelerando ne sta arrivando un bel po' adesso speriamo noi sicuramente non prima di luglio agosto però almeno gli altri io voglio mi sa anche e poi e poi noi no vabbè magari luglio agosto si può farci che poi in realtà io appunto ad averlo il più tardi possibile perché tanto a me non vuoi fare nulla infatti sto dentro casa quindi non ne ho effettivamente il bisogno impellente però no se si andasse anche bene mi piacerebbe fare quello a una dose sola così fatto e a posto ciao devo stare aspettando la seconda guarda non dire così Ancela perché ci sono stati problemi in Lombardia da tre mesi a questa parte non è così rosa i fioli in Lombardia anzi tutto il contrario per niente proprio adesso pensate che Marco non può andare neanche in bagno una roba allucinante tra l'altro non so gli Ezzar sei visto chi sono i papabili concorrenti alla prossima vabbè oltre a Sala che non ha proprio non è che ha avuto proprio un ottimo beh in realtà non è neanche andato così male no però diciamo che tanti hanno fatto retrofront dopo il Covid vabbè ma come tutto come in tante cose ma guarda Price anche io ho tra virgolette paura degli aghi e svengo a fare le analisi del sangue io sì grazie ma delle analisi del sangue non delle ma perché ti aspira non delle siringhe esatto tipo io lo dico sempre che non ho paura del dell'atto ho paura dell'esito sempre perché io sono un povero ipocondriaco no io invece ho paura a me non frega niente di farlo a me mi fa senso l'ago che cioè infatti non lo guardo perché mi fa senso l'ago che si infiltra dentro io la prima volta che l'ho guardato sono seduto e poi mi ciuccia via la linfa vitale mi ciuccia e boh dove siete andati scusate questo balcone è un carino perché cazzo siete andati tutti su che l'obiettivo è sotto a me io stavo cazzeggiando adesso poi ci sono delle casse ti stai facendo indolore rapido l'ago non si sente nulla ho fatto un prelievo no ma infatti il problema è dopo nel senso che perché ho sentito gente che l'ha già fatta semplicemente gli viene dolori al braccio dove hai fatto l'iniezione tu dovresti fare normalissimo vabbè quelli è abbastanza normali capita anche con altri con altri vaccini poi dipende dipende da da persona a persona naturalmente si si ho sentito però comunque non è non è che se mi dici tranqui non fa niente sto meglio eh no perché il problema è che non lo puoi mai sapere quindi ma pare che se ti fa impressione l'ago ti fa impressione l'ago in quanto ago no quella può scendere sì 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 penso che nessuno di quelli che hanno la paura degli aghi hanno paura che faccia male l'ago proprio senso ti fa non so sì esatto a me va bene per esempio non fa senso quello però io ho paura del tutto il resto cioè dell'esito l'avevo già fatto questo pezzo scusami no perché se qualcosa che non va mi ricordava una cosa ah dobbiamo entrare qua nella fontana e dirgli com'è mi è stato tantissimo grazie elettrica in attesa di giocatori vieni qua gli ezzer sono piccoli ok 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 arriva gente arrivano i satanassi eh però non ho mine non ho munizioni c'è nemmeno qua dall'entrata dalla nebbia dici come dark souls invece arrivano dai tetti Marco oh madonna ecco da solo io non le farei mai le lezze tu ce la farei proprio vabbè da solo ma perché non saprei proprio dove toccar avrà un minimo una base avrà di qualcosa c'è uno scemo c'è chi se le fa tutti i giorni che quello lì non è che poi si però io non riuscirei mai a iniziare a farlo eh ma magari dopo un po' per la rottura di coglioni quello si probabilmente sei proprio semmai li dobbiamo uccidere nel cerchio eh uccidi gli zombie nel perimetro si bisogna farli avvicinare ma che cazzo che non leggiamo perchè come al solito queste cose vanno fatte per dargli un sacrificio ma mi stupà il caos beh fate arrivare tutto quello da tagliare dietro quelli dietro gli ezzer Marco ti esplode il cube ho l'ultimate team come si attivava ma la musichetta che carino come si attiva l'ulti scusami questo è l2 più r1 eh ma non ah più r1 si mentre miri il dorsale destro praticamente grazie che ho fatemi curare comunque se avete una playstation così vi sicuramente non l'aveva consigliato che ora giocate al ghost of the ocean che è veramente stupendo vabbè che ha superato probabilmente nella mia classifica Horizon che è diventato il secondo della scorsa generazione ragazzi ma io col pompa sono un imbecillo ho i mortacci vostri sto giocando veramente male perché mi sento come se mi fosse cambiata di nuovo la sensibilità non so perché poche munizie individo la torre infernal la stila fatemi prendere tutte queste munizie qui no prendetelo perché è veramente stupendo adesso sto puntando a platinarlo ci vorrà un po' però io volevo comprare pay goal 2 per farlo ma costa ancora troppo corro dribblo pip 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 come si muove male oh my god no ecco ai passi manchio Ma non possiamo competere con te, sei il campione intercontinentale di... Vabbè ragazzi, ci provate, Marco. Ci provate. No, neanche il figlio, sei il secondo di camera tua. Vediamo, vediamo. Ci provate perché ovviamente sono superiore a voi, però magari, che ne so, una partita fortunata... Ma vi ricordate quando per un anno diceva Io sono il campione, sono il secondo al mondo, e poi si scopre la di casa sua. Vabbè, ma era... era for the memes. Marco, non ci crede più nessuno ormai, il danno è fatto. È come Agnelli ormai. Che cazzo è? Che cazzo è? Che paura, ragazzi, avete visto anche voi? Ma dietro è pieno di catramoni. Io ancora non ho capito cosa fa questa abilità del bianco e nero, comunque. Ho detto che stabilizzi la mira, però non mi sembra. Ma a me sembra una cagata. Può essere, ma non me ne sono ne accorto, quindi figurati. Perché alla fine, in realtà, non è neanche così, è già stabile normalmente la mira. C'è... il merda lì. Sparate al merda. È morto. Io ti colpio, però. Figurina demoni e ombra ho sbloccato. Ragazzi, dietro è pieno. Eh, vabbè, noi pensiamo al davanti, Marco. C'erano munizioni! Ehi, questo se so fa! Bravo! Vabbè! Essere studenti in medicina e soffrire il problema di sangue, ma dovrò per forza iniziare i tirocini. Eh, quella è brutta. Come fai a fare quel mestiere lì, scusa? Quella è brutta. Buona fortuna, perché è veramente tosta. Ma le munizie? Beh, però magari ti aiuto a superare poi la pau, scusamente. Chiama belle? Sarà un clavicembo... Il merda è lo stagista di Boris. Devo ancora finirlo, Boris. Aspetta, aspetta che è qui. Perché li c'erano qua? Pateria. Ma sai che il pompa mi sembra sempre che spari dei pezzi di plastica, mi fa schifo. Caricatore da un vuoto! Oh no, arriva l'allumino magico. Ma che subacqueo! Bellissimo! È mostro una palude! Ah, lui... È un bell'uomo, comunque, eh. Un bel ragazzo. Ma che schifo che erano tutti poligoni... Fa un po' male, però. No, erano tutti poligoni verdi brutti. Hai già morto, scusa. Ah, perché sono tanti. Sì, il nuovo tipo di zompo. Guarda che arrivano dalle fottute pareti. Oh, fuck! No, mi aveva vomitato addosso. Più sceme. Pecchinabile. Sono caduti, che scemi. Che scemini. I scemi. Ma le pende... Gente! Ma io non ho medici. Bestia, mi spute, no. Non ho medici. Ah, ma io con questo... Che colpo! Aspetta, mi. Ah, ma cambia in base all'arma l'ultimo. Non l'avevo mica capito, io. Io come mi curo, ragazzi, vabbè. Once again. Grazie, Lucas. Lucas, lei va. Grazie, Lucas. Ragazzi, direi che qua prendiamo un bel pompa. Sì, forse non ha più rinculo l'arma quando sono in... Beh, che già non è che ne abbia tanto. No, infatti non cambia un cazzo, ri... Sì, ragazzi, però due colpi di pompa non ha veramente senso. Che devo dire, gli spari un fucile incredibile. Sono la merda nelle piedi. Ma dobbiamo venire qua alla fontana, eh? Sì, mi sa dobbiamo rifare... Sono morto. Vabbè, mi tiro su da solo. Eh... Vabbè. Mi posso curare, anche perché... Anch'io non l'ho medici. Ah no, adesso sì. Io no. Dove l'hai preso? Non lo so. Perché l'ho trovato per te. Ah, io ce l'ho. Ah... L'amore è preso. Eh, beh? Prego. Uccidi, dice. Ah, mi sa, dobbiamo... Sì, dobbiamo liberare e basta. Ah... Ah, esce direttamente il film di Mortal Kombat tra due giorni? Perché ho visto il trailer stiii... Beh, sembrava avanzato. È uscito? Ah no, però non pensavo uscissimo. Dioca aveva passato addirittura il... Sette minuti del film che erano stati... Sì, i primi sette minuti del film. Eh, non sembra male comunque. Ah, vabbè. Ragazzi, io... Mi devo assolutamente curare. Vediamo qua se c'è roba. C'è niente, Marco. C'è niente. C'è una cassa? No, no, no. Io c'ho una munizione. Però c'è un topo. Magnalo. Ah, qua dentro, qua dentro ci sarà roba. La caccaforte. Caccafurente. Non si può fare niente. Ma è Stanger Things questo palesemente, ragazzi. Oh. È una citazione proprio... Palese. La paistola, va. Che bestia. Come spara questa paistola? Si sopprendo. Però c'è qualcosa sopra? È l'obiettivo. Vabbè, è un gol d'oraio questo. A parte l'obiettivo. Dai, datemi delle munizie. Forza. Eh, qua c'è la safe. Guarda te. Che lavoro. Di ma gambe. Ma che paura. Esce il 23 su HBO Max. Ma basta, HBO che non esiste qua ogni volta. È un casino. Sì. Resistenza abilità. Grado 10. Quindi abbiamo la nuova... La nuova cosa. Abbiamo sbloccato la nuova... Sì, la nuova abilità. Sì, la nuova abilità. Tra l'altro... Ieri ho visto... C'era in tv la pubblicità del film di Tekken. Madonna. Era veramente un po' un imbarazzo quel film. Allora, la nuova abilità... Ah no, non è vero. Modificatore espanso per mettere la gente. Modificatore espanso, ecco qua. Tac. Acquisti. Io mi so che mi cambio la secondaria, ragazzi, eh. La doppietta montaio è stata originalmente progettata per... Eh no, va acquistata però. Moderatamente i danni. Ma io farei questo. Posso fare anche questo? Mi sono preso l'M30 Drilling. Bello. Trapanatore, ma vuol dire, eh. Sì. Ma è un pompa a canne mozze. Cioè, canne mozze. Ha una doppietta, eh. Questo cosa fa? Reduce il ritardo di rigenerazione della salute. Ma chi se ne fu? Ragazzi, mi metto un berretto morbido. Cambiamoci un pochettino, dai. Bravo. Mio Dio, c'era un'animazione che si chiamava saluto. Ho detto, sarà mica quello, visto che la guerra... No, invece non è, fortunatamente. Ma questo è Thor, bellissimo. I rumori... Pazzeschi, ragazzi. Ma... Le munizioni sono pazzesca. Sono il fascino della tedesca. Vuole uno spicchio della mia pesca. Voglio provare la doppietta. Quello! Cos'è quello? Marco, vieni qua, va. Ah, se c'è la davanti, tu. Ma questa è una cassetta da poter interagire, ma non mi fa interagire. Perché bisogna da prima fare robe. Ah, bisogna sparare, mi dice. O far qualcosa... Hai usato dalla corrente. Eh, ma sparando, perché mi da rosso col mirino qua, se punto. Realizzati sulla terrazza, dici. No, sarà da metterci qualcosa. Ci sono tutte... Ci sono tutti trappoloni, ci sono. Vedi, se vuoi puntate questo carretto col mirino, ve lo da rosso come se gli dovesse sparare. Eh, no, te lo da rosso perché ci sono robe esplosive. Ah, ma questo? Trovo le parti per riparare, allora qua. Raccogli fusibile. Ce l'avete già presi? Sì. Ok, adesso partirà la sito e poi dobbiamo andare qua, in teoria. Ok, adesso partirà la sito e poi dobbiamo andare qua, in teoria. Penso io, ragazzi, sono il mastro cecco. Voilà. Vai, ma proprio tranqui, eh. Ma state facendo tutto voi. Aia, mi da una botta, iddo. Non sto facendo niente, io. Bravo, bravo. Eh, non faccio in tempo che l'avete già sentito. Che, Eliezer, levati dai ball che mi sei messo davanti. Che ha parlato? Arrivano quelli più grossini. Ho sentito una voce profonda, là. Io ho detto stay down, ma non so se... Ho finito... Ho finito i colpi. Ho finito i colpi del mitragliatore. Ah, ma qua dietro ci sono. Cascano anche dal buco, ragazzi. No, non piazzare la mina, che poi esplodo io. Eh, mi rompono il generatore, l'ho appena sistemato. Sarà una stupidaggine che... Che non shot con la doppietta, cosa vuol dire? Ho fatto di due. È una doppietta gigante, cosa vuol dire che non shot? Che è? Carica elettricità in atto. Ragazzi, ho fatto una stupidaggine! Posso del call. Eh, in realtà hai servito, ma era un... Ma che fuoco terribile, Marco! Non l'ho scelta io, texture. Che schifo! Ma hai scelto tu di farmelo vedere, eh? Allora, L1. Fammi schiacciare... Il... il Kumenda, qui. No! Marco, le hai prese tutte, le hai prese. Quale il generatore, bisogna andare... Qua veramente il cecchino non mi è servito a niente, purtroppo. Ah, io vado di qua. Eh, dobbiamo, mi sa. Allora, aspetta che io devo prendere le munizioni. Fatemi chiurare, va. Che fuoco in 2D, ma... Madonna, era terribile, era. Ah, qua ci sono le munizie. Ok. Ho questi che cascano dal soffitto ancora. Basta un po'. Vado, corro! Mi divincolo! Mi divincolo! Lezzar, ti seguo. Sono medikit qua, per caso? Eh, non credo. Ho sbagliato strata. Ho sbagliato strata. Credino. Scemo, scemo. Ma... Ma devo andare dall'altra parte, semplice monte. Qui sono così... Vedi, mi sono andato lì. Ah, ma mi sono andato. Insomma, mi basta fare trick e trick e chi ti caga? Oh, questo sparo! Maledizione. Tiè. Eh, eh. Dove passo? Che bello che è stata questa cosa qui che ho fatto. Oh. Ma è indietro! Ma si fa ad andare di là? Eeeh, non lo so. C'è tutto il percorso qua sotto? Non è vero. Ah, dentro l'acqua bisogna passare. Ah, ci si. Boh, non pensavo si può adesso. Trick e track, trick e track, trick e track. Eccoci qua. Aiuto. Vi attendo di qua. No, è che di qua anche l'obiettivo. Ah, ce ne son due? Ragazzi, vado piano piano io. Non è che di là c'è il fusibile che poi è da portare qua? No, non è vero. Qua c'è il fusibile. Arrivo. Eeeh, qua non lo so. Eeeh, qua non lo so. Non mi dice. Vado tranqui. E' il generatore B. Ho attivato di qua. Adesso mi arriverà tutta l'ondata. Ma siete... Io sono in acqua, sto arrivando. Più o meno siete. Eh, ma qua non c'è nulla. Ah, ma ti difendi il generatore B. Ah, ok. L'abbiamo di migliorarlo, arrivo. Arrivo. Dai, come ce l'arrivo? Vuoi dire? Ma non lo so. Gli ho zarrcecchina da di là. Ah, arrivo. Un fuori! Un fuori! Ehi, guarda da! Fu all'è! Aiaia! Ma qua è pieno di veleno. Un tuffo carpiato di mezzaro ho visto. Ma è pieno di veleno di là. Ma rospetta Qui sulla schiena te li ho tirati Marco Che bellevate da lì Eh ma scusa eh Un po' di precauzione Quelle sono persone Gomorte Gomorte Ah bisogna riavviare? Ah no Non so lo difendere Visto del rosso Ah c'è roba Ah Peppino Eh lo sapevo eh Mi ha fatto danno Non mi ha fatto Asperto C'è un Eh lo squalo è quello Ma è vivo lo squalo Mi sto divertendo a fargli Fuego Ah Quanto manca Sì è Guarda che bel lavoro Allora Allora però Ambei Ragazzi c'era una figurina Del Piero L'ho presa Ci sono i cecchini C'è un cecchino là Io ho 4 più 9 colpi Come si arriva? Eccoli Eh questo non ci prendo Esplodi allora Dai Forza fatemi posto Amici dove si sale? Non si sale da qua Ma hai spreso a fuoco l'acqua Amici Com'è possibile? Ah sì L'oceano in fiamma È la famosa storia Sì Sono salito Ah così? Ma i mortacci tua Allora dove bisogna andare A prendere il fusibile? Sarà qua dentro Ma quel cecchino Lo devo uccidere Eccolo qua Tanto prendo queste Ho ucciso Ok Fammi prendere le munizio Buongiorno Thor Aia Eh ragazzi Occhio che salgono questi No che faccio Aia Boh Ho avviato il generatone Esplodi Ah quando Ok Quando l'ultima etattiva Ricarico anche molto più freddo Oh Qualcattora Non so come scrivere Ma è sempre un piacere Questa chat Grazie Corri zin Grazie Oh io ho piazzato così Ma Ah Ragazzi Ragazzi io non ho più munizioni Del cecchino Non so come colpirli più Si sono nel piano di sopra qua Nel piano di sopra? Alla mia destra Sono le scale che vanno su Ah si Del cecchino Ma è pieno di mostri Fammi uccidere sto scemo Che mi ricuro Di sopra non avete il gatling Fa vedere Eh ce l'abbiamo si il gatling Lo vado a prender Non è che lo prendi C'è la torretta fissa Esatto Quello volevo dire Ma il mio italiano è particolare Ok Immortal cecchino là sopra Morite tutti No il nostro pene Ok Ti devo curare anche Ma non c'è niente qui Ah quello sputa Maledruccato di merda Non si sputa Io ho un hp penso Ma questo tira il cecchino Ragazzi che in paura A parte che si sta dissanguando Si no ma è perché Ma c'è un muro grosso qua dentro C'è quello con l'antiafiamma E mi è arrivato da dietro Non posso ritirare Orca mignotta Anche io Aia Come brucia Sono morto Devo uccidere uno zonco Eh io non posso farlo Sono da solo in mezzo Sono tornato su subito Ah perché è morto qualcuno Sulla trappola Chesar per favore Grazie Si è ritirato su da solo Ma come vedi Non ce n'è di anima viva qui Neanche è morta Fammi prendere la gatling Ma c'è uno Stronzio Che fatto resiste Ok dovrebbe essere muerto Questo Pias dello smuerto E' sciupa Brucia Aia ma ancora gente da dietro Ma basta Sono di nuovo con un HP Ma che paga Devo prendere le munizie Ma prenderò questa Rilasciate la carica elettrica Rilasciate la carica elettrica Dov'è? Eh Eh là davanti Ah minchia Eh Dov'è un'altra indietro Come ci arrivo lì Oh Facciamo sto sforzo Proviamo Proviamo E' chill Ma non ce ne so io Bravo Moro Fai un po' di pasta al sugo Andiamo C'è il cecchino Aia Mi stanno uccidendo E' morto il cecchino Ma chi è che mi sta facendo danno? Forse perché ho un HP E quindi mi da sempre rosso Diamo fuoco a quest'acqua Diamo fuoco No sono morto Come? Eh io non posso tirarmi su eh Arrivo eh Sto andando Vi salverò ragazzi Come si sale? Sono morto No Aspetta eh Eh io sono morto Ah però non ho la Seconda ciance Ma se l'hai una volta solo Ma prima Ah perché prima Era la ciappola R1 Di là era? Purtroppo mi sono dissanguato Marco Io non ho capito Ah sapotonati Non ho capito come faccio A risalire ragazzi Forse sono solo subito Vai nel bordo Ah qua Eh perché non mi fa salire No sopra è Era un'altra via Marco c'è la porta Porca miseria la porta No dov'è? Lì E' qui Lai C'era l'interruttore Era gratis E' gratis col plus Si gratis col plus Semplicemente ragazzi No io perché rimango indietro Eh no sono io Oh shit mi mangia il ciappetto Ah invece C'è tutto però lo scopo C'è tutta una cifra Qua che cifra però Sputino 10 43 Poi dipende Bestia No Aiz Probabilmente una delle nostre frasi Senza senso Molto probabile Molto probabile sì Molto probabile che sia Un momento Dei tanti In cui non sappiamo Parlare E quindi parliamo Ma di merda Le cifre sono quelle da 1 a 9 però Cambia zona Ragazzi Un sonno Stamattina Eh Marco Sarà colpa del bagno Italy Come siamo messi con l'Italy Andiamo in Sardegna Ma scusa Da Venezia Andiamo in Sardegna Complimenti perché Il carburante Era illimitato Sardegna Cagliari No No Cagliari è a sud Eh non so Andiamo verso sud Sassari No Sassari a nord Sassari Sassari Ulistano No Ulistano Stuni Sardegna Generico Probabilmente era in mezzo Perché era in mezzo Della Sardegna Sassari Nuoro Dicono circa Ok Già sto fatto Ma che Sardegna Paludosa Vero Io un po Non me la ricordavo così Ecco Diciamo Ma che sai Tu mi cacere negli anni 40 Ma veramente Marco Sempre a parlare a sproposito Eh Ma lo sapete col covid Amuletti Ah qui ci sono i medikits No no i milidori Non c'ho punti Quindi niente Questa la finisce di parla Io sul pompa posso mettere qualche acous Sensamento 1 Eh sì Scusate Mi conviene rimettere l'altro pompa Perché almeno c'ha Situazioni pelviche Me ne vado ragazzi Marco Eh Dimmi dimmi Cosa hai bisogno Moro Allora aspetta Aspetta che ho un modificatore Usalo per rianimarti Quando sei a terra Quando si utilizza Invia anche un'esplosione elettrica Colpisce i nemici Ah buono questo Ah avete anche voi Ho modificato l'oggetto Eh sì sì Nel kit medico Eh quello è buono sì Qua cos'è che gli da E' molto più Un attimo Devo togliere tutti i segnalini Di cose nuove Che se no mi da fastidio Allora Dicevi Il mit che edico Qua Ma non è mai la Sardegna Effettivamente fu quella qui Diciamo che non ricorda Ecco Era giusto La cosa simpatica Del segnalino Pugno della pippa Ma bella C'è qualcosa qui Perché poster Sono tutti in inglese Non mi avevo capito Che no Si sa Certo che almeno fuori dai cancellisti Sembra Germania Sembra Sembra Salem Più che altro E' una mappa Orror Qualunque Che poi è anche molto bella Cioè le ambientazioni Sono carine Non sono male Siamo nel biose Siamo nel biose E' il buco Gli ho sparato Bravo Tappaglielo Marco Tiè Ora qua L'assenza di pecore che non quadra Eccolo questo Eh ma l'ha mangiato gli zombie C'è una deficiente ragazzi Magari hanno fatto le piccole zombie Sarebbe molto interessante E contestualizzato Ragazzi ma siamo pazzi Granate di supporto Ma è pieno di gente Che mi sta esplodendo addosso Ma sono un botto Oh ma questo schioppa Porca buttana Pieno Pieno di gente Bravo che l'hai mandato via Vai la Voglio farlo anche io Di sparare via gli zombie Pirla Guarda te Ti devo già curare Non lo farò C'è uno dietro eh Che si sta rianimando Guardalo il maiale Ok Allora secondo me La granata che io ci cura Aspettate Marco Vieni qui Stanno rianimando i borcelli No non è vero Siamo immardati Ma che cacchio Ma che cacchio di dio Non stiamo perdendo vita Però mi pare Ne so Granata di supporto Chi ha lanciato un'altra Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Devo comere l'L1 Tu ti fai a pestare qui Quante robe ci sono qua Eh c'era un bel massone di gente La granata Adesso va come puzzo di cacca Eh però gli interni sono fatti bene Sono pochi Ecco siamo veramente nel baiù Aspetta adesso qua c'è Ant e Shodano Regroup Come può Vabbè A me che Oddio Arrivano gli esplosivi Che fai così però Se arriva gli esplosivi Voglio tirargli un pugno Grazie ma Thomas Sono formato Grazie ma Thomas Pamm Pugno gangam Fammi ricaricare il prepu Non fa più un cazzo Non fa più un cazzo sto cecchino però Non mi sa Pugno del pene Pieno di buchi L'ho investito Lo voglio rifare Pippo E vai Oddio Oddio Non becille Fate anche l'attacco Quello da vicino Che vi rifà vita Non quello Allora non so di cosa parli Quello con la X Sì Ma l'ultimo dice di eliminarlo Aspetta fatemelo fare Fatemelo fare Ah questo non lo può fare Eh perché si doveva ancora alzare Secondo me Mamma mia che qui scopi Ok qua magari ci sono Stavano vado quanti Ci stanno i polscelli Vabbè io gli metto la cacca Sotto Sì è una bella granita Quindi qui vuoi tutta C'era la cassa dietro Eh ragazzi C'era la cassa nella casetta dietro Vabbè c'ho l'altro Ok che alcuni sparano Eh no il fatto è che Se l'ha messa adesso La prossima te la rimettono Vabbè c'ho l'altra arma Allora lì sta riprendendo dai cadavoli La pistola comunque è l'arma più forte La pistola effettivamente è utile L'altro nei posti così vicini Io che c'ho il cecchino Cioè sto usando quello Alla fine come arma principale A cazzotti vado Sì è arrivato Jimmy è arrivato Ma quanto perché deve fare Ma sta sparando completamente a caldo Vabbè ma basta spararli Eh c'ho visto Chiaramente ho preso l'albero Però va bene Marco è là Sì è Ma si rifanno la vita Ho fatto uno scherzone Ho fatto la gran figura e merda Bravo Marco Quanta gente va dietro C'è un gruppone di gente incredibile Chi è? Chi è? Prego vai vai Marco Io ti guardo eh Vai vai Spara quello lì sotto Senta che purtroppo non ho più calze Ma questo chi è scusi? È il laser È il laser quello lì Non gli sparare Ecco bravo Aspetta c'è una Ecco vedi quello là Ha fatto il pirla Va 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 Ne arriva Va vai Ne mancano Ne mancano E vabbè Marco C'è un po' di gente qui Nel Smitterò delle fezze Ma quello lì che cammino C'è che strisce C'ho preso Qual è la lor di questo gioco? La lor che devi ucciderli Ci sono gli zombie E gli zombie sono cattivi Un attimo Un attimo E Hitler che ha risuscitato tutti gli zombie Ha creato tutti gli zombie E tu li butti giù Un attimo Devo soffiarmi il piffero ragazzi Ah qua è pieno di munizia Siamo a Twizelad Sì Neanche su Twizelad Gli interni sono veramente Belli Bellezza Suffiarsi il naso amici Una soddisfazione Di gomma Si potrebbe dire Bisogna stare qui Bisogna stare Sì Sveinsteiger Sveinsteiger Quello delle polpette No No Ostia Ma è zombie scusa Simbolo di satana Perché sono rinati gli zombie Tramite riti particolari Ovviamente Ma bellissimo Ma che Scusa All'interno era una Eh sì È tutto Cioè È veramente Un caro armato zombie Ma bellissimo Non l'avevo mai visto Colpitelo al lato Non credo di fargli danno In realtà C'è chi nante glielo fatte Ma mi dà l'itmarker bianco Non so cosa Eh infatti Questa è una bella idea Comunque Che bella sta musica Tutto zombie Fissi Perché tanto C'è una roba con gli zombie Deve essere trash Ragazzi Sì Allora A meno che non crei Veramente la trama del secolo Fai una cosa Abbastanza Deve essere trash Così ci sta È perfetto A me bisogna trovare Qualche lanciarazzo No Bisogna colpirlo Quando Quando arrivano Aspetta Qua c'è un pugnale Di sacrificio Santuario di vocazione Ah è Scusa C'è il checkpoint No no Hai aperto un portale Da chiudere la frattura Ah vedi Sono alleati questi Oh mio dio Non sono alleati un cazzo Ma vaffanculo Hai aiutato loro Perché mai L'avrei dovuto fare Però scusatemi Forza Forza Ma è pieno di gente Pure dietro Ambecilli Ah non ci arriva Ah non ci arriva Ah c'è arrivato Piripiripim Ma dov'è il cavolo È troppo alto Però Così muoio Aia Ah non gli faccio null Ragazzi Se gli tiro l'ulti Aspettate Prova a tirargli l'ulti Sul Ma dolore Aia Aspetta 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 No non mi Vabbè Tirato l'ulti di fianco Gli ho tirato Non è capito niente Però No ma se vuoi bisogna trovare qualcosa Volo di straight Aspetta Provo a lanciargli le granate dentro Ma no Non è questo Che cazzo Aspetta Che c'è uno strunzo Ma dov'è il tank Ah è da Provo a inseguirlo Vediamo Mortacci sua Quello là Ma Ho ancora l'ulti Gliela spacco addosso Ok Sono dietro di lui Ragazzi c'è una gutling No si è girato L'ho vista ora Eh lo so Ah ma dietro è chiuso però Ah no è Mort Se non è bisogna andare sulla gutling Aspetta No aspetta Ogni tanto lo apre Ok ogni tanto lo apre Ah si Ah io Ma c'è un'altra gutling Anche di qua Ah sto per cadere Ragazzi gli sto spaccando la vaffiancata No se vuoi bisogna prendergli dietro Quando apre il portellore Marco sei per terra È morto Si è rotto Scemo pagliaccio Io sono morto Ma tu cosa sei Sei un pirla sei Te lo dico io Scemo Si è rattrappito tutto di carne Ma quindi bastava sparargli Non c'era Ritmarchio Perché lo apriva dietro Fammi usare un medichitto Piripo Piripipo Ma un medichiterà per terra ragazzi uno Quasi 10 E le porte E le porte blind Vediamo un attimo qua La mattina me le prendo io Cioè cosa ho trovato Ah lanciarazzi Ah qua ci sono la lanciarazzi Ho trovato Arrivo E poi che mi sento gli zombie dietro Ma non è mica vero Sì Dove è che c'erano le ronte Qua dentro la stanza Oh che alitosi che hai Ma per cortesi Ah ma lì c'era un altro Mitragliatore qua Qua sopra Sì ce n'erano più di uno Ce n'erano eh Che trombetta allegra è vero Vabbè Carmolo Se ti abbiam detto Che li ha tirati fuori Hitler Per forza Seconda guerra mondiale E niente Ah Vende con territorio idraulico Dove lo porto La Com'è che si amore Fullarlo Beh io vi Mi puttego da qua Qua c'è una cassa Di pippi Ma non posso passare Ma li mortacci tua Ah oh Domani non facciamo Formula 1 No domani facciamo Ehm Gartic Phone Ehm Non c'è niente Ok Ma porca buttana Sanpei pescatore Uno grosso Dall'orecchia sventola Facciatta la lasagna Barbon Amado Ok Colpire meglio Non è mica morto eh Sono due grossi Non è mica morto questo Aiuto Sulla terra Sulla terra Tiratemi so chi Eh aspetta eh Qua c'è Gibraltar Che ha tirato l'ulti Aiuto Come arrivo Dall'à Non si può arrivare Ma ragazzi A me stanno tenendo Dietro la macchina Non riesco a passare Eh Aspetta E' pieno di grossi Ma ci sono quelli che esplodono Metta vita Eh ragazzi Non è possibile Aia ma basta Eh sì Tutti che mi esplodono addosso Ma siamo pazzi Oh my god Io muoio Io muoio Sono morto Arrivo gli Ezra Ma si è rialzato sto strunz Senta ragazzi Voila E sono giù eh Eh lo ben so Purtroppo era pieno 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 Di gente che Ci penso io gli Ezra Intanto con questa cucaraccia Eh esplodo Troppi esplosivi Dai Cos'è sta roba Avevo i due con lanciapiamme Tipo sei di gente che esplodeva Quelli piccoli Mamma mia Manca pochissimo Marco Sono ridato zombie Com'è Mi devi uccidere forse Può essere Sto vedendo che sta camminando Da solo Da zombie Guardate uccidermi Ma questi ancora qua Oh my god Di Marco Sono caduto C'ho una seconda ciance però Grazie orange No ma era troppa gente Ci ha messo esplosi tutti addosso Più quelli grossi Più quelli normali Più la bombardata E che cos'è Che pensimi Sono cecchino Io da due centimetri Che devo fare Salvatore Sono un maledetto Oppure io Tu lei che sei Tra i vagoni La in fondo Aspetta che qua c'ho un problema Guardami quel cappellino A sinistra Aspetta mi posso muovere però No E' stata una casualità Puntate a fare l'obiettivo Eh ma non so più La seconda ciance Ah e allora come mai Non lo so Ho finito le munizioni Della pistola Cedo Sto arrivando verso di te Eccomi là che stavo arrivando No ma troppa roba dai C'è troppo casino Veramente o la rasciamo E chi se ne frega Degli zombie Sennò come abbiamo Come posso Come fai Deve mettersi ai Alle gatling Si Devi riavviare tu Eh ricomincia dal checkpoint Facciamo Mi metto dalle gatling Dai faccio io Allora Dobbiamo andare a prendere Il contenitore Eh io non ho vinta già Anch'io non ho vinta Ma no qua c'è da ricaricare Le munizie Ah no Completo Occhio che Alcuni Alcuni mob Lasciano dei mediti Prima l'ho trovato casualissimo Proprio per terror Adesso ho le gatling Che vado a dargli E uno è qua Vado a sistemarmi Ma uno è qua Quella che ha usato Per buttare giù il carro Ci non separiamoci Stiamo a un obiettivo E siamo a quello lì C'è uno con la gatling Su un tetto Non riesco a prenderlo Anche se lo sto prendendo in testa No dai È sbagliata È sbagliato l'hitbox Che fastidio È morto Ho preso Vado sull'obiettivo qui a sinistra Io non lo posso prendere Perché? Ma non è da prendere Io Per favore Mi consenta Di smetterla Marco vai la gatling Qua sopra Anche se come da aspettare Quelli grossi Poi Probabilmente Sprombazzarli addosso Però questi qua Esplodono E sono morto E ovvio Che arrivano No vabbè Non è possibile Che arrivano gli esplosivi alle spalle E non ti usi la gatling Mi ha preso il rinculo Alcoli zombie sono medici Per quello che lasciano Vado dagli ezzar Ma il problema sono quelli esplosivi A me di quelli grossi Cioè ti nascondi E via Sono morto Ma dai Ti è esploso tutto il culo Siamo imbazzuti Tendi il coltellatore Vai cagato Vai prendilo Marco Dove Quello lì Sì ma Ci sono dei checkpoint In giro Per far rinascere la gente Sto premendo Non sta succedendo niente Ragazzi Ok Fai il piano Ok Checkpoint Sono rinato Devo andare in un altro Degli obiettivi Sì Non sono spawnati Quelli grossi adesso Forse perché prima Ho fatto direttamente L'ultimo fatto Boh Ho collegato uno Io non ho più vita già Si è trovato un medico Non ce l'ho mai avuta la vita Si fa Si fa Ragazzi Torno sulla Gatling Stanno uscendo dai portali Sì ci sono I portalizzatori E uno La Cis Io Facciano munizioni Ragazzi Dove sono io Un'esplosione Si ammazzano No Ok adesso è morto Ma non è morto Uno zombie Era un mimic No non rinasco più Mi rifaccio vita Mi rifaccio Ma io sono qua C'è una cassa davanti a me Da aprire ragazzi Se volete venire Arrivo Eh provo Arrivo Ho aperto la cassa Questa mi è uscito uno zombie Da dentro la cassa Io non ho più la seconda speranza Scusami Dietro gli Ezzar Ok Thank you Ma per questa Vedi se Vedi la c'è Il lanciarazzi Ce l'ho già Perché la pistola lanciarazzi Non è che fa l'esplosione È a posto Prendi il contenitore idraulico Questa è una Ma ci sono Gibraltar di nuovo Ahia quanto fanno Eh ci sono HP Ma non si può ragazzi E questo spara pure È possibile sta roba Ho la gatling Va Presa Fammelo usare un attimo Oh che miseria Questi come corrono Sono per terra Alzi tu Sì sì Sto carregando Arrivo Mi colpiscono il deretinox Basta quelli che esplodono Allora Aspetta che sto carregando Vado Corro All'ultimo piunto Guardi voi Adesso spawnano quelli grossi Ma guarda Io sono già morto Ma te l'arco Tu sei distantissimo Da noi Eh ma perché Ero alla gatling Mi hanno attaccato qua Tutti quanti Eh ma vieni qua Eh come ci arrivo Continuano ad esplodere addosso Provo ma Corro Eh ma non ci becco Può chiudere la porta No è una gazzata A prendere le gatling No adesso no Perché sono di qua Prima è stato utile Ma perché era più tranquilla La situazione Adesso Questo è grosso Ho sbagliato Ho lanciato Fammi curare va Ho lanciato Ma io gli ho tirato Anche l'ultima Quello lì Non gli ho fatto niente Vado via Mortacci vostra Ma io sono il tizio Prendi il contenitore Eh perché sono gli evocatori De merda Ok ragazzi Forse l'ho ucciso Quello con la gatling Ho quasi eh E io ce l'ho uno qua Ok l'ho ucciso Uno con la gatling C'è un altro ora Ok preso il contenitore Ok Mi sto tenendo a bada Sti temi L'ho di qua è chiuso No mi dovete proteggere Ok Non ci sono il secondo Manca il terzo Con la gatling Arrivo Con la mia pistola di pelle Vai vai che lo sistemo Ho ucciso anche l'altro Fuori scemo Pagliaccio Pirla Andemo andemo Amici ma che fatica bestiale Sta cacata però Grazie midio Grazie midio Amici mi inseguono Quelli che corrono Correte E' la nostra fine Siamo tutti qui E' la nostra fine 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 E' la fine Guarda guarda L'ha morto Ah Ormai ero preso bene Che faccio Mi fermo Giusto Poi sembro finto Ecco Perché Scusse Benvenuti su Sul mondo di Pathfinder Qui Tutti uguali Ma poi le Perché non abbiamo più le molotov Quelle vere Che queste mi fanno schifo Guarda Uso l'ulti E uno L'abbiamo smontato Già Guarda Li lancio una bomba Li lancio Headshot Ottimo Ah bello La ultimate Col cecchino E' bellissimo Hai visto che bella Che è Io uso solo quella Praticamente Rompetegli L'armatura Buona Buona E manca Un robottino Di gomma Qui Pam Via la testa Posto Pistola Ma li mortacci tua Pugno di canne No Ma posso fare l'eliminazione Scusa Ragazzi ho tre proiettili Va Finite le munizioni Di tutto Ragazzi Ci sono C'è dietro Per ricaricarle Nella stanzina Scusa Io tra l'altro In tutto ciò Non ho ancora Il medikit Da prima Non so come ho fatto A non morire In tutto quel macello L'ultimate della pistola E' la ultimate Di McRind Sì Un po' sì Anche se non ferma Cioè non ferma il tempo Perché siamo in molti Comunque Eh anche McRind Che realmente Siamo in molti Sì ma tecnicamente Sì però lui mira in automatico Qui no Non fa un cazzo In realtà Qua Qua c'è la cazzo Te l'ha appunto Con un indicatore Va bene Mi ha tirato una laggata Adesso mi ha laggato Mi sta laggando Sì 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 Ok Qua è finito il capitolo Kit medikit Piccola brodi Capitolo complete Non è vero Che sparo in automatico A tre teste Tony Cioè almeno Dove sparare Non mi sembra Abbia sparato un cazzo In automatico a nessuno L'ultima pistola Puoi mirare fino a tre zone E quando spari Mira in automatico Boh Non mi sembrava Brodi Prendete il medikit Non si smetto di laggare Magari Allora interazioni Punti non ho preso Nessun punto Beh No Abilità Abbiamo qualche abilità Ho la pistola Non che divine Possono curare i compagni Di squadra Ho la pistola gialla Ragazzi Che bello Premetto seconda chance Anch'io Perché Subito 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 Sì ma recupero un po' di salute Ogni 50 combo La tolgo Perché l'ho fatta all'inizio Ma poi mai più Ne faccio 30 al male Ho messo quella che c'è più difesa Cioè Sì metto quella pure io Metto nel gumbletto Certo che nel check point potrebbe Cioè mi siedo Mi curro Non lo so No si faccio temperato Quello lì hai messo tu Mi sa di sì Dai mi piace come situazione perbica Ma è una persona vera E niente E quello dietro Vera Ma poi cosa stava facendo qui questa torcia Fermo immobile Scusami No Quelli da sopra Ragazzi È Resident Evil Creepers Sbagliatevi la testa Cos'è quella Il rumore Ah puoi far esplendere le tubature Occhio che Spacchiamo la faccia Allora Eh l'ho visto C'è più di uno mi sa Ti accendi i interruttori Oh no Bisogna farli tutti e quaccio Questa è OV OV Quindi Questa è meglio ragazzi Che non ho la padronanza della lounge Ah Ah Dovevo ricaricare Un attimo Oh ma tutti da me siete L'immortacci vostro Ecco Quanti cazzo siete Qui è pieno di Creepers Vabbè attaccate voi Io vado in giro Ah no Anche qua è più Seguo Moro Perché non sto vedendo proprio quello che dovrei vedere in questo momento Ecco qua Sto scemo Ahia Avvisi mamma Veramente bella la pistola L'evento di Hunt Era Non era Non era tutto Gran chiccia Carino al boss No Per niente proprio Era il solito Hunt Ragazzi muoio perché non C'è veramente troppo casino Mi sono tirato su da solo Non importa Ma non c'è Ricadrò Ricadrò ragazzi Troppa gente Io non ho abbastanza armi Per poterla combattere questa cosa Niente Non sto così Ma dove cazzo eri tu Li uccido tutti Ma sei all'inizio della mappa tu Sì ma Moro Io sto vedendo roba Che voi umani Non potete immaginare Quindi non lo so Ok Li ho uccisi A quanto pare Con scoppio ritardatissimo Ma Li ho uccisi Cammina Vieni avanti Fammi curare Ma gli ezzar Ti sei tirato su col kit medico Ti ha rifullato Ti ha sbagliato No Ti lascia un quarto di vita Lo uso mo Gatto grazie Grazie gattico Ma dove siamo C'è la stellina di là Sì Aveva ragione Marco Stare indietro Ciao gattanti Ho fatto di proposito Flama Flama Oh Temo Oppela Lai Doppio Se li fate avanzare Prendiamo sta bombola di ossigeno E li facciamo saltare Ragazzi Pensa la terra Oh porca buttana Aspetta eh Ok Ho fatto esplodere Ma sono ancora in piedi Sono Aspetta eh Io vorrei tirarti su Questi un attimo Che mi sfiammano Ce l'hanno con me Ragazzi Io vado via Ciao Ah si Con la pistola Fai l'ulti Nelle teste Ragazzi L'ho fatto adesso Mi sono rialzato Giusto L'ho appena fatto Ragazzi Mi ha mirato tre teste E me la colpite Ok Gli do fuoco io Gli do fuoco A questo scemo Grettino Ebbè Raccogliete tutti Il lanciafiamme Andiamo avanti Con quelli Che bestia Lo raccogliere Qui Che schesse Ah no Non sono lanciafiamme Ma ce ne erano 40 Grazie Dexter Dove è l'altro lanciafiamme Si possono prendere Allora l'ho finita Io purtroppo Fatica a portarlo dietro Non rinascete Offerai Io le munizioni Sono Di lì C'è solo il cecchino Che non serve In questi ambiti Ci sono dei pugilisti Marco E un brampicatore Di corda Stavano combattendo Erano fermi Infatti volevo vedere Volevo vedere il combattimento Marco Perché li hai uccisi Erano fermi Erano Eh ho capito Magari poi Cioè Doveva suonare qualcuno La campanella Si combatte così La vera lotta Questa è l'MMA Ragazzi Basta con questi pugili Eh Questo disc Trasporto Guarda la corda Ho preso le munizioni Della doppietta Ma che fischio però All'interno Mi dico Si è aperto Un congiuntivo Marco Ti sfido a dirlo Un pugile Vero Eh beh Lo dirò Tanto se Dovevo dirlo Di quelli Della MMA Dovevo comunque Dirlo davanti a uno Della MMA Ah a tuo punto Meglio un pugile Ma potremmo anche Stare zitto Ma io voglio parlare Questi hanno la tutta Inizia Però vogliono lo stesso Sono le bombolette Che esploteno Ahia E Marco Ce n'è uno di fianco Questi fanno esplodere Il Vinavil Poche munizioni Eh lo so Sto combattendo Con questo problema Da un po' C'era un sacchetto Di pelle Qui Per caso E cosa c'è Il coso Per le munizioni Incendiare Boh Non ci sono altre cose Io sto morendo E sono senza munizioni Passo Le munizie Oh va che bello Per il cecchino Per la pistola Va bene Va bene Almeno c'ho la pistola Deoders Interruptor Bisogna trovare Deve essere sempre Due interruttori Deve andare in bagno La notte Almeno Almeno il fuggile C'è i guantoni Quello delle mea Ti spacca la faccia Ti spacca la faccia Fanno male Anche il guantone Per carità Aia Chi è Oh ehi Ferma un po' La cultiello E' già finito E' già finito Le munizioni Della pistola E' tutti addosso Al muro Ogni volta Non buttevo Mi sa solo Quando c'è il mili Cioè No Quello a destra Carico Puoi fare L'attacco Che cura Calpest 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 Un sacco di gente Ah ricarico Pugno nell'ano Un altro trofeo Quanti trofei sto Belli questi qui Con la fiamma Cidrica in mano Che Gli esplode Ma Che è successo Eh ma l'ho ucciso Prima Eh no Non ho capito L'animazione Del mio personaggio Tipo Luca Laurenti Quando faceva lo sceriffo Sì ma io Stavo scrivendo Ragazzi Era una cagata La mia Non è che dovete Aprire un dibatt Stavo scrivendo Cagata Allora Io adesso uso il cecchino Non me ne frega niente Anzi C'ho il pompa Ancora con qualche colpo Incendiario Deon Allora Dove sono gli interruttori Ah no Ricarichi le termite Vado Me ne sbatto Sono ricarico Ehm Di qua Buono Aspetta eh Grazie Wallace Grazie mille Wallace Grazie Wallace Grazie mille Grazie mille Grazie 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 Spara 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 Ma guarda che Bell Ma se passava nel bunker No perché mi si è resettato Il Il power The power of love Foto un achievement Electroshock Ma se cambi arma Non te lo resetto Cioè Ogni arma che selezioni Ha la sua ultima No non della ultima Quello a destra Che mi serve per fare L'attacco Quello che mi chiura Guarda che bella stanza Questa Guarda che bello Eh sì Ma c'è anche La mobilizzazione Zombie Scusa Ci sono dei porci Ma sono tutti zombie Ma secondo me gli interni sono fatti molto bello Non sono tantissimi Però sono fatti bello Signor Margo Gli hai rotto l'osso del coro Che devo fare Gli Faccio lì Ma anche qui Guarda Le cucine Ma dove cazzo dobbiamo andare però Tre volte che faccio sto giro io Per capire se trovo Quanto Quanta carne Per me dobbiamo salire sopra C'è qualcosa sopra Devo romperla come su Medal of Honor 1 Quindi c'è di andare di là Sarà qua sopra Ragazzi Dai Ci sono dei percorsi Con le porte naziste Oddio mio Che grosso Oh mio dio La scale è qua Oh mio dio Oh mio dio Non lo sono ritrovato appena ho girato l'angolo Non ha fatto nessun rumore Aio Aia Eh sì Vabbè Tieniti sta granata E muoio Non importa Pugno nell'ano Dai tutti e tre Avengers Assemble Aspetta lo abbattolo A posto Questo giro lo prendo io Aia No mi sto dissanguinando Non riesco a prenderla Qualcuno mi può Sexare Per favore Eh c'è un altro di là Ma no Eh ho capito Mi sono girato con la gate Mi ha buttato giù Zubi Niente voi potete spararli Dai te lo distraglio Basta un po' L'hanno ignorato completamente L'ho ucciso Dai questa gate Forza Doppio pugno Madonna è volatissimo Pugno dei gemelli Dere Geek Gemelli drop Geek Vai Dobbiamo andare di là Passa Quanta gente Qui c'è un po' di granate Qui c'è La carica di termite Amici ho ancora 55 colpi Per il fuoco Ho trovato il trombone Andiamo Dovevamo portarla No Gli stronzi Creep down Ah non tocca andare di qua Bisogna scendere giù di nuovo Sex Ah ma sotto c'è un mitragliatore Gli ezzar ve la piaga Aio Arrivo Un altro trofeo Quanti che stavo facendo Ok Dove sono i maiali Ho finito il programmi Sneverland Allora Ah ne ho messa una E l'altra Due l'emo Ma è sempre posizionati Ma c'è la Ah c'è la Marco Perché Marco Valla a posizionar Avanti Siamoci qui davanti Aspetta Non c'erano delle munizioni No mi ricordo male Si Munizioni Eh vabbè Meglio che niente C'erano delle munizioni Sono della pistola Qua Aspetta Sceglielo già Queste Sì Che apri la porta Ok Arrivano tutti da qua Ragazzi Non mettetevi davanti Vi odio Lasciatevi un po' di spazio Con il mitra Mi sono abbassato Fatelo anche voi Con il cerchio E io non è andato Aspetta Pi-pi-ri-pi-ri-ri-ri-ri Quanto va via stealth Lì? Qua Questo? È il mio Che da distante Non serve Non lo usare Da distante Eh No ci arrivo Pochino Eh ma non gli fai un cazzo Vabbè Vabbè Ma la porta Vabbè Aspetta Anche io Ok a sinistra A sinistra Madonna a sinistra Moro tu continua a sparare dritto Noi spariamo a sinistra Aspetta Aspetta Fammi Usare qua L Mi sarebbe Mi servirebbe uno zombino Aspetta eh Ma non volevo mettere la mina Vabbè Track Track Ci appa lì Oh my god Ma La porta è aperta La porta è aperta Andiamo andiamo Tipo sono andato a fuoco Andiamo va Via 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 C'è il checkpoint Si dilatti Si dilatti Nice Capitolo complete No non è servito niente Mi son curato di quel poco Che è servito per resistere A quel poco Che mi stavo curando Credo che sto Sti posti stretti Per come sono messo io Con le mie armi Veramente Assassino Che cosa stavo vedendo Che sulla play C'è sniper elite 3 A 2 euro e 99 Però credo sia brutto Poi quello che Dove sia brutto Il playoff Il 3 Eh ma il 3 Mi sembra che era Quello che aveva avuto problemi Non ho avuto problemi Il 3 mi sembra di sì L'aveva detto già Luca Anche me l'aveva raccontato Una roba del genere Mi ricordo Ma non mi ricordo Che problemi Però Forse di ottimizzazione Al lancio Facciamo così Anche se ho giocato Il 2 La pistola in realtà Mortacci mia È un'abilità nuova Ragazzi ma il medic Che c'è qui Medico militare Le munizioni divine Posso curare i compagni di squadra Sì ma a me Questa cos'è Accogliarmi pesanti Su cavalletti Uh fico Quenta il timer max Della combo No No Che c'è qui Che c'è qui Che c'è qui Che c'è qui Stile alive Ma che fa Era in piedi Falso impalido Dai Posti chiusi Mi danno molto fastidio Granata divina Qua Comunizione Pistolo Dobbiamo trovare I componenti di sparo Ma c'è un Componente di spacchio C'è un V2 Uno l'ho trovato Ci sono i razzi Dei nazisti In Sardegna Fabbricavano i razzi nazisti Si sa Attenzione Storia Se non la studi Però Ah vabbè giustamente Vedete qua Le granate elettriche Io le granate Le devo iniziare a lanciare Però Io le lancio sempre Io non mi scordo Ma che cazzo Ma qui facciamo È un dottore morto Qui Ora vieni a vedere qua Do sono io Vedo cazzo Non posso Sei lontano Anche a me Farò degli esperimenti A me qua infatti Si vedono i dottori morti Le storie Comunque le storie Sulle guerre mondiali Quelle che poi Si vanno a infilare In esperimenti Voi tu Moro Il panza Shrek Lancia Lancia cazzi Ho preso un componente Di Sparrow Gran componente Di Sparrow Tu sei sempre lontanissimo Ma le cacchia stai Eh ma è la freccia Piunta di qua Ma si no Ma guarda un po' In giro Il mondo Io ho preso Un componente Vieni qua C'è un fumetto Pellico qua Vuoi lasciare Marco Andare in giro A cazzeggiare Esattamente Quello che stavo facendo Facciamo dei soldi Ma come si prendono Sti soldi Mi oddio Non si è bugato Quanto gente c'era Capitano America zombie Aspetta che qua Ho visto che c'è Una cazzata da fare L'hanno fatto gli americani Perché non lo devono fare Anche No Chiudilo subito Ma io li farmerei Ma perché No non lo so Ragazzi Non ho trovato un altro Sono bravissimo Vada chiudiamo Ve lo aspettavate da me Bravo Marco Cos'è sta roba Aspetta C'è una scatoletta verde I gombonendi Di sbarro Potenziamento Tie Adesso devo tornare da voi Però sarà un macello Gli altri c'è Gli ammarco Sei un macello Sei qui Sei E ormai Dai Si fa Forza Avvia la calibrazione dell'arma No la calibrazione Mass Effect Vibe Come si chiamava Garrus Si chiamava quello di Mass Effect Che doveva fare la calibrazione Che bello Che bello Aspetta qual era l'altro Il dottore Quello con la testa lunga Non me ne ricordo Come si chiamava Quello che mi stava soffato Ragazzi qua c'è un medikit Ragazzi qua c'è un medikit Non ce n'era veramente bisogno Ho esplosato un coso Il reattore dell'aereo Si è acceso Ragazzi sotto di me qua c'è un medikit Beh per ora sono fulgiti Si è lui Ma che storia Come ho fatto a ricordarmelo Che non mi ricordo un cazzo Guarda Eh mi piacerebbe rigiocarla Adesso che esce l'aria Che è lunga però E' tanto lunga Eh minchia si Però magari su PS5 Lo gioco volentieri Mi piacerebbe rigiocarlo un pochino Anche a me Perché ai tempi non sapevo neanche cosa fosse un GDR No esatto Adesso sarebbe tutto molto più C'è lo giocarei con veramente Tutta un'altra consapevolezza Sì Gappo via Ho sbagliato È passato in me Ma che è successo qui Ma tu sei un imbecille È caduto un missile dall'alto E vabbè È caduto un missile dall'alto Ma ci hai fatto esplodere il culo dal reattore qua Fatta Fa instaminare la calibrazione lo fa da solo spero Se non riesce altro intorno a quando esce Mass Effect non ve lo picchio Tra l'altro dovremmo uscire a breve Poi effettivamente non esce altro Perché l'unica cosa che esce è Kena che però lo faccio in live quindi Bello Kena Ucciderò uno zombie di D la sua Però una volta sola Ma se effettisce il 14 maggio Ragazzi sto combattendo contro troppa gente Eh vabbè Marco Tanto giochi con il tram non escono Non li tengo più Gli con il tram non escono proprio adesso 53 di combo ho fatto 55 Io ho 2 58 59 Oh Marco ho finito serve una mano 62 Ovviamente non lo faremo in live perché è troppo lungo Però Oh io magari il The One Guarda ho finito Fammi andare a prendere il medikit però Me lo riprendo io che mi serve No mi è caduta la bomba non posso saltare da qui Festa Giusto per vedere la remaster dell'uno Che era quello più invecchiato male Ma sono comunque remaster non remake Sì no però sai magari un pochino L'hanno invecchiato Eh ma se non posso scavalchiare come ci vado a dirla Perché l'uno era quello messo peggio Devi fare il giro Dove era il medikit non c'è più Qua Va chiuso Ah ma dopo un po' scadono le robe per terra mi sa Probabile Le avevo tutti scatolate All'altra cosa non ce le ho più scatolate Però le avevo tutti scatolate Io ma sai perché te l'ho iniziato il primo anni fa Però non mi È molto figo È veramente una bella tram Parte finale come al solito Però In generale è molto figo Facco tutto Guarda la differenza tra Moro e me con i punti Speriamo Perché il primo Il primo doveva essere tanto svecchiato Gli altri ancora Andavrò bene Non è tanto qua arrivano tutti in culare Eh ma io sono Mezzo morto Ma qua dietro c'è una stella Fammela prendere Ok Sente l'incremento della carica Arrivano Cazzi io non so Piripop 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 Ok l'ho preso L'ho strozzato e gli ho rotto il collo Ma è stato terribile raga Ma sono tutti da voi Qua non arrivano No erano i assassini Guardali quanti Ah eccoli Sono tutti qua C'è una testa di fuoco là dietro, lo vedo. Morto. Aveva anche multiplayer, sì è vero, aveva anche multiplayer. Non so se lo rimettono anche adesso. Aveva il multiplayer? Sì, il 3 sì. Ma la co-op? No, 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 multiplayer è proprio multiplayer. Ah. Sai che manco lo sapevo. Minchè la co-op sarebbe finissima, insomma, sempre. È vero. Il fatto è che non puoi farla. Non venirebbe completamente. No, ma più che altro come la fai. Cioè, non è strutturato per una co-op. Sarebbe figo nel senso l'ambientazione giocarla in multiplayer. Non è un gioco effettivamente... Devo andare a fare una finisher, aspettate. Ho confermato niente più. Ci appa lì. Vabbè ma ci sta perché non è rimasto della trama, cioè. Eccomi. A posto, ha fatto. Dobbiamo andare sopra. Infondo il nucleo con la potenza dell'Arcanus. Alla fine il multiplayer era molto secondario. Qua c'è una munizione della pistola, se volete. Ma devo andare di là. Andromeda non l'ho mai giocato. Andromeda, Andromeda. Per quel che ho visto era veramente senza... Senza senso. Senza carattere proprio. Dai, voglio di giocarmi la te ne ho già vecchia prossima. Però poi lo farò. Andromeda, Andromeda. Si è spento. Far via il processo di biodistillazione. Ma che cazzo dobbiamo fare? Il vino lo dobbiamo fare. Ma veramente dobbiamo fare la pozione polisucco. La pozione poliseno. Beh, porca. Non mi si muove. Hanno rotto degli magazzini, eh. Devi prendere il pompo. Ok. No, sono stati triturati. Ma che schifo, ragazzi. Ma che brodo. Sopra è pieno di gatti. Qua non passerete. Scemi. Vabbè, io continuo a calpestare qui, eh. Bravi, bravi. Ma se ognuno prende il punto dove cadono e calpestiamo tutti... Beh, ci sta. Ah no, c'è la resistenza per calpestare. Non lo puoi fare all'infinito. Ok, casca. Eh, chi manca? Ma con la pistola mi sa che c'è un po' di automira. Solo con quella non ho preso. Un po'. Qua. Ho preso. Metti il biocarburante nel nucleo. Oh, caputana. Torniamo in Drio. Metto il carburante nel nucleo. L'ho messo. Forza, forza. Ora avvia le turbine per l'ultima infusione. ... Attendi l'incremento della carica! Eus! Mi piacerebbe fare il vino comunque a me. Mi piacerebbe? Eh, mi ha dato... Ho fatto credo un colpo critico a uno zombie. Arrivano ragazzi! Mi ha dato l'immagine di Sniper Elite. Cioè che mi ha fatto vedere l'impatto del proiettrio. O meno mi è successo. Eh si, a me è successo delle volte. Piripiripim Comunque ho fatto che ci sono gli invocatori Rompono tutto Sì scemi Sia fermo Spugno nell'ano Crettino Sui portali che merda Ok E' una marea di gente qua che stanno fatta Infatti sto cercando Col cecchino di fare il massimo Ahia astu scema Lei si riguarda Si deteriori per favore E' così giusto dirlo Sì continui pure la sua decomposizione Esatto Escono dei comodini Ma For Cortez Lei non si preoccupi del fatto Pugno nell'anico Pugno nell'anico Pugno nell'anice Ma sono morto Forse dovevamo spostarci Si può essere What's the shitty figure si può dire Marco Si può dire Pare di sì Dubito ci siano mostri adesso per tirarci su E' ne era uno lontano ma neanche il tempo di mirare E' quindi Quindi sono riguardo E' figure di S L'Azer Devi continuare Ho fatto il trofeo Mi sa che il trofeo Uccidi i tuoi alleati Con un po' Il fatto è che ero in mezzo Perché erano tutti in mezzo Che menavano le torri E sono rimasto Ero lì che cercavo di difendere Androne 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 Beh la storia che è senza senso Se parliamo di E spara Spara Se parliamo di coso Ma Seffel della trilogia Infia come si fa Direi che è senza senso E' bellissimo Forse il finale E' scritta benissimo Io non so, ho sempre sentito parlare del finale dei Mass Effect è un po' così ma non lo sono mai spoilerato Il finale perché c'è proprio il finale, la scena finale è una gran cazzata Esatto, però tutto il resto è stupenda Non me la sono mai spoilerata perché non lo giocherò, non credo lo giocherò quindi potrei anche spoilerarmela Però non mi sono mai messo, anche perché probabilmente non la capirei, non lo so Ho giocato veramente poco al primo Mass Effect, tipo 5-6 ore E poi non mi dispiaceva nemmeno ai tempi, solo che era tanto... Cioè, magari può non piacere, ma dire che senza senso non ha senso Vabbè, senza senso è questo, nel senso che trash è una cosa improbabile Però la prendi, cioè se compri questo gioco lo santo Dio, lo saprai Calpesta, Gliezer, calpesta Bravo, così non faccio le formiche Ma sono troppi Io sto vedendo delle animazioni che non stanno nemmeno a niente Devi calpestare, devi calpestare Calpesta, quello lì calpesta Guarda le budella come si espandono Perché non c'hai... Ah no, ce l'hai adesso Ho preso il cosmo Ah, ma devi metterlo nel missile? Sì Non c'è rifugio, dove cazzo sta? Ma voi non rinascete mai? No, non abbiamo voglia La mia batteria del pedda, quanto è? Come si controlla? Ho due tacche, ma l'attacco, tanto sono qui Io sono pieno Tra l'altro leggevo che sì ci sono degli animali che possono creare uno stato di zombie, no? Degli insetti, delle spore Ma è un po' improbabile che vengano fuori degli zombie Leggevo Perché c'erano stati alcuni parassiti Dicevano, eh ma se questi prendono forma È il parassita tipo delle formiche Sì, no Sempre il ragazzo che sto seguendo su TikTok lo spiegava Diceva, è possibile ma in una maniera molto più o meno Cioè nel senso Non sarebbe sicuramente come nei film No, un campionato di football manager intero Non lo so Dipende, a parte che sarebbe noiosissimo Ma sotto c'ho dei poten... cos'è quella cosa? Ma i beat? Ah, c'è una roba da potenziare Allora, la pistola, la pistola Lo vedrebbero veramente in pochi più chiaro Cioè dobbiamo guardare anche quello noi Ma sì, ma in live... Se potessimo fare tutto quello che ci pare... Non ci sarebbe assolutamente problema Io parlavo del... Ero più concentrato fuori live Perché live non lo farei Perché non piacerebbe sicuramente Ho sbloccato il nuovo slot delle abilitezze Custode della combo No, difesa... Grazie, zero, miss Grazie mille, zero, miss Inizio una combo da 100 Grazie, zero, miss Inizio una combo con combo 2 Grazie, zero, miss Grazie, zero, miss Chi se ne frega Ver 2 mi sembra veramente poco iniziare con la combo ver 2 Piuttosto faccio le munizioni divine Ma le munizioni divine anche quelli sono veramente rare Ho questo Stavo pensando Ma se faccio la combo ragazzi Metto il per 2 E mi rimetto la... E che porca miseria Allora metto questo Uccidi nemici per rianimarti Quando restano meno di 6 secondi Alla morte per dissanguamento Devo tenere conto di questo Per sbloccare lo step successivo Per la seconda chance Bisogna rianimarsi Al... Dopo... Quando mancano 6 secondi alla morte Però aspetta C'ho anche... Oh Poi potenzialmente con la pistola Non c'è lì Sì, esatto Quello di Last of Us Avevamo preso spunto Da quella delle formiche Mi pare di sì Ma sì Sulla sulle formiche Un demo? Pagò che suono Aspetta che Marco Ma la Luger La Luger Mi conviene... C'è la pistola Quella lì Mi conviene prenderla Ma faccio già Fa più danno Via Eccomi Ma non ho preso un cacchio però C'erano medikit? No Ero finito Tutti Marco Allora Ma le gali Eccolo lì Sauron Andiamo Ma è una persona buona Quello davanti sì Siamo nella... Azione eroica Ma l'abbiamo fatto morire Forse La shitty figure Ma che questi non hanno sparato però Stronze Perché lo sai come Nel mondo è pieno di pigri Pieno Pieno Fa c'è un granite È che ci arriva una bella ondata Sì Vabbè Sono pronto ragazzo Io me lo posso staccare Vrei andarlo al mitagliato Queste? Che lampeggia tutto qua? Uh armi Quanti armi Armi interessanti E' un 44 Ragazzi ma che storia L'ho presa io questa Bestia se son forte Eeeh Eeeh Eh lo ne io uso Ah perché l'hai staccata L'hai staccata Ma c'è un bazzucca Vai Marco dove cazzo vai Vieni qui Per cortesia Eeeh Mi fare adirare Arrivano sul ponte Sopravvivi mentre il razzo si prepara Aliezzar vengo per davvero da te Mi metto davanti gli ammazzo Eh ok però lo so Da dove arrivano Ah no aspetta Devi darselo Dove è lanciapuffi? Dove è lanciapuffi? È appoggiato al muro Aliezzar Ragazzi arrivano da lì in fondo Me li pinghi? No Non so come si fa Vai da dove sto sparando Ma andiamogli più vicino Qui gli spacco la faccia Che musica incredibile Scemi E' caduto Scemo Becille Grettino Ah eccolo lanciapuffi Pagliacci Non avrete la nostra Uno con la mitraglietta Ma anch'io ce l'ho la mitraglietta E' scemo Io l'ho finita Però gliela sparo in testa con l'ultimo Guarda Pam E' finita Vado via Vado via Vado a prendere un altro Di grossitudine No Ti ho fatto l'aspiratore Ma guarda Testi scemi Che stanno fermi Ma questo è duro duro Aspetta Non sono così Stanno completamente fermi Sti stupidi Ma non muore quello Mi hanno rosa Rorto i coglioni Me ne vado Ma L'ho manca Ma muore? E' morto Era la cazzo di ora E' andato qua a litmark in realtà No E' morto E' morto C'ha bisogno Sì La ventola attivato Morite tutti Ah sì A te ti stroco il collo Ti stroco Ragazzi mi toccano Con un lag incredibile Mi hanno toccato Aia il veleno Ci sono i pirla Ci sono Non ci prendo mai Non ci prendo mai Non ci prendo mai E' uscito il romagnolo Scusate Mi hanno sputato Nella cava Ho attivato la ventola Di nuovo Ma ci sono gli assassini Anche Lei mi deve Assolutamente Frigare la macchina Sempre Finito le munizie Ragazzi sono fortissimo Fammi ricordare Comensurabile Faccio Riattivo la ventola Ma razzo Si è preparato Mi sono rotto il gaz di sto razzo Non si prepara il razzo Amici Eeeh Voglio indecenti Vabbè io sto qui Con il signorino Come? Ma io faccio un ultimo E-team adesso Pam Once again Grazie Iclandese 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 Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ok Io entrerei dentro Magari Ma dobbiamo Amica Ma è a metà strada Il razzo Eh si Ragazzi Io non ce la faccio più Ah se dovete ricaricare le munizie Sono dentro Combo da 50 Ok Ecco come funziona Stanno arrivando dentro Serve una mano Tiè Hanno invaso l'interno delle punte Eh vabbè dai Eh stanno uccidendo i tizi Eh no Non può capitare Questa cosa Unione l'Aino Aia Aia Ma che dia delle pene Arrivare da qui Sono perso tutto la vita Ragazzi C'ho la combo di 72 Ok il dentro è posto Non prendo il Thompson un attimo Eh ma non è che mi ha dato così Che munizioni Mi sa che le munizioni Mi tiene Quelle che avevo Infatti Ma lol Rivoglio la mia cazzo di Ma lol Lorenzo si è fermato Eh devo andare su Eh vabbè Vado Ma le munizioni Non ci sono qui dentro Sì sono proprio al centro della stanza Ragazzi sono alla combo di 92 Ho finito le munizioni Grazie a tutti E io ho usato tutti i razzi Forse se vi a tenere per questo Eh forse sì Gli Ezzaro Ragazzi devo entrare nel Pachidermas Ragazzi sono spawnati altri Aspetta Aia Cento ragazzi Cento di combo Eh usate gli esplosivi Non ce l'abbiamo Eh le orca buttana Ma mi hanno tirato un missile Aspetta eh Seconda chance Secondi Come faccio a vedere Quanto Vabbè ti tiro su io No non lo fare Eh Eh Non è che abbiamo Molto tempo eh Ho preso danno Sono morto Piazzo la mina per terra Ragazzi Mentre passa il tipo Sono rinato come zombie Tra l'altro Sto piazzando le mine Quando passa esplode Uccidessi La zombie Maia Gli Ezzaro No non sono stato io Ragazzi mi è rimasta solo la pistolina Sono completamente Sono completamente lontano da voi E non posso neanche entrare Farò una cosa incredibile ora Eh sono a terra Non ci sono zombie qua I cini Adesso li salo io questi Ma io non ho zombie qua vicini Che fastidio Guarda come la luga è una merda Ma che mi ritira mi su Non fai danno Non fai Fa più danno Quella che avevamo noi In realtà Secondo le statistiche Sì mi dava questa 10 L'altra Sto animando Non sto capendo L'ha bloccata l'animazione Vai più in su Veloce che sto per schietto Ok Fermo le munizie Sono dentro qua Sì sì Ma questi fermi Guarda non ce lo meritano Di essere salvati Forse era il caricatore Ho visto magari Ho visto male Non so Dopo guardo Ah munizioni non c'era Ah no Niente Era un'altra cosa Ah ok Gli ho distrutto una cosa Da dietro Devi distruggersi i bozzi No marco i bozzi dietro Ah sì 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 Eh vale Tutti i cacchi in faccia Gli dovrei tirassumare Qui dentro Troccare l'animazione Perché prendevi danno Da veleno Capito Ah può essere Ma guardate Ho fatto qui PPP Veramente troppi colpi Allora Eh non dovrebbe più averli Così così rossi Fagli l'attacco Ma non ce l'avrai Ah sì Dobbiamo buttarlo giù ora C'è l'intreferenza Ma Cosa è successo Ti sei lanciato Non sono tirato Tanto Di piedi C'è la pistola Lanciaranzig È la tua sinistra Mark Prova a sparargli Che la dubito Faccia qualcosa Non credo neanch'io Sai Ti dirò Che figura di pene Mi sa che devi sparare di fianco Tanto Ma l'hit marker bianco Sì come la danno È esploso È esploso Ha fatto un po' di esplosione Ha fatto un po' di esplosione Si è aperto di fianco Liezer mi sa Ho sbagliato Prova entrare Liezer Vedi Marco vai Che scappa Ok Nella faccia l'hai preso Vabbè è morto Tira su Pippo Stavo mirando con lo zoom E non vedo nunca Però Splatforo in questo gioco Non penso No non credo C'era un lanciarazzi Oh mio dio Qua c'era pieno di roba Si Fassini tanti Non ce n'è bisogno Marco Non lo fate Non me lo fa Non mi fa l'attacco Mi li Marco che fai Sei cascato Ma no ma perché Ti azzaro vedi se riesci Ma non crepate mo' Che non c'è ancora il checkpoint Si proviene mentre il razzo Si calabria Ma sta interferenza Ehi non posso arrivare fino là È colpa dell'elgato Perché provo a chiuderla e riaprirla Interferenza di cosa? Dell'audio? Si Ma io sento Anch'io un po' che mi sa che il gioco Io non sento un cacchio Di interferere Chiudere e riaprire un attimo Game Capture Si si sa mai E dimmi quando sei dentro Veloce Sono sono Faccio Però Interportasi Oh ingrandisci ti Quindi anche la Sardegna Mi sa che l'abbiamo fatta Ustia Non lo voglio vedere così piccolo Non si ingrandisce più Bam Abbiamo distrutto il manone Abbiamo distrutto Ma quindi è finito il gioco? No siamo uomini Anche a me tol Abbiamo finito il gioco ragazzi Guarda vedi i dottori I dottori con i ghostbusters C'hanno il coso dei ghostbusters Vedi Adesso esce fuori Un sassone Attenzione Hitler Da che era Hitler? Il trono di Hitler 13.000 Ho fatto 103 Ho fatto la combo Dov'è la combo? Non me la dice Beh immagino Tipo il boss finale Ma non era stato Lo libereranno In qualche modo Sì ma con Il gioco era stato esiliato Quindi che capitolo siano adesso? Salviamo qua Al quinto Dove essere il modo Dobbiamo fare Adesso vediamo un attimino Il potenzialmente eventuale Era il secondo Abbiamo fatto il quarto Era il quarto No venezia al secondo C'era Milano Venezia Cardegna Adesso Andiamo Grazia doveva andare Sì Perché si lascia l'Italia Sì ma dalla Sardegna Fanno un giro È tutta rossa La Croazia Un problema Sarà imbarazzata Ma adesso andiamo lì La sbarazziamo Uno piercer qua che passa Ogni tanto Il braccio Il braccio Il braccio Aia Bestia Se il pallone è quello di Rust Sempre troppo duri Secondo me No siamo Direi che possiamo fermarci A chi Sì direi di sì Però mi sta interessando Ah sì dai Questa è una cassa grossa Accessori Ero in dubbio stamattina Non lo nego Che potesse rompere le balle Molto Io mi sto divertendo Però oggi già ha avuto un po' di Beh oggi inizia anche di essere un po' di difficile Ha avuto un po' di brio in più oggi Inizia ad essere anche difficile Quindi Sì è difficile più incasinato Grazie 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 Andiamo avanti I venerdì Oh la la Oh la la Amici Stasera Totally Accurate Battleground Che vado a scaricare Vediamo un po' Sì Vediamo un po' Com'è questo giuego Adesso Sarà Penso Abbastanza divertente Sono 3 giga Sono L'ho già scaricato Battlegrounds Penso sarà abbastanza divertente Questo L'ottomattina Non so C'era un moro che voleva fare Isaac Da quel capito Sì All'ottomattina rifaccio Isaac Dai Che ci divertiamo un botto Con quello Io sto andando malissimo Su Isaac Non so DLC mi ha completamente rotto A parte che non mi ricordo niente Facendo un po' la grida Io voglio l'editor dei salvataggi Perché non c'ho voglia Di fare tutte le cazzate Che ce l'ho andata a fare Bene bene Un quest ass Allora Ok Ma sempre Sì A stasera Un bacione Ciao a tutti Belli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti